I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Marese nei confronti di sei soggetti bagheresi e palermitani sospettati di aver realizzato una vera e propria attività organizzata volta alla ricezione, trasporto, raccolta, smaltimento, trattamento e incendio di rifiuti misti derivanti da attività di demolizione e costruzione provenienti da diversi cantieri edili, siti nei comuni dell'Interland palermitano e affidati per lo smaltimento a due imprenditori bagheresi, gestori di due distinte aree di smaltimento illecito di rifiuti nel comune di Bagheria. I provvedimenti che chiudono una prima fase di indagini rientrano nell'ambito della più complessa attività investigativa denominata Quattro Assi, scaturita da una segnalazione di abbandono sistematico di rifiuti speciali e non in un'area rurale del comune di Santa Flavia e condotta dai carabinieri del NOE di Palermo tra il mese di agosto 2021 e marzo 2022. Le indagini hanno consentito di individuare non solo la filiera del ciclo dei rifiuti prodotti dai cantieri edili nei comuni di Bagheria, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Santa Flavia, Palermo, Ventimia di Sicilia, le cui ditte consegnavano gli scarti a uno dei due imprenditori bagheresi indagati, titolari di un'azienda non autorizzata alla gestione di rifiuti prodotti da terzi che avrebbe smaltito i rifiuti usandoli come materiale da riempimento, scaricandoli e compattandoli direttamente sul suolo della propria area e di altre aree private in zone rurali o all'interno di una cava nel comune di Belmonte Menzagno. Il tutto tramite l'utilizzo di autocarri in assenza di autorizzazione al trasporto e falsificazione dei formulari identificativi dai rifiuti. Contestato anche il reato di inquinamento ambientale. Nel corso delle operazioni sono state perquisite e poste sotto sequestro due aree a batteria di circa 500 metri quadri ciascuna, di vita allo stoccaggio e all'illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non. La cava a valle fonda di Belmonte Mezzagno e della superficie di circa 79 mila metri quadri, sei autocarri utilizzati dagli indagati per l'illecito trasporto dei rifiuti. Perquisite inoltre le sedi delle ditte che gestivano i cantieri. Il valore totale dei beni sequestrati si aggira intorno ai 2 milioni e mezzo di euro.